Ecco come sarà la nuova grande rotatoria all'incrocio tra via Cabaroncello e via Parolini, un intervento atteso da anni in un punto nevralgico della viabilità bassanese. È un punto nevralgico, un punto su cui si aspettano soluzioni da anni, e questo è uno dei punti di partenza perché la sua funzionalità è quella che farà sviluppare anche il proseguo della viabilità, del cambio della viabilità futura di Bassano e Grappa. Stiamo parlando di Piano Mar? Stiamo parlando anche di Piano Mar, ma non solo di Piano Mar, stiamo parlando anche di altre soluzioni che potrebbero essere applicabili su via 11 Febbraio e via Parolini. L'opera andrà in gara nel mese di luglio e i lavori potrebbero iniziare già dopo l'estate. È una rotatoria classica che va su sede stradale, viene fatto un allargamento verso l'edificio che sta a nord dell'incrocio attuale e viene creata una rotatoria sulle cinque strade che ci sono. Per la realizzazione della nuova rotatoria è prevista una spesa complessiva di circa 630 mila euro.